Ma si dai fai tu la domanda, sei tu giornalista Ragazzi cosa vi aspettate da questo Natale? Beh allora... Che non torni a casa? Si! Te mister! Vai, vai mico! Ma è partita veramente? Eh no, è già 20 secondi Che coraggio che hai, vabbè Una testa, una testa, dite cosa vi è sembrata la partita di oggi La partita di oggi? O Fusca? Ben giocato oggi Io ho visto il primo tempo, il secondo non lo so Raccontatelo voi No, è stata una partita bella, l'abbiamo andata a casa Primo tempo secondo me abbiamo avuto 4-5 occasioni Ma basta, siamo in vacanza Scusa una cosa Bologno Ma Omar, batti ogni tanto gli occhi, è figo che era in fissa No, ok, chi è? Aspettate un attimo Anche l'altro Io dico che Rinforzati dall'assenza di parecchi giocatori La squadra si è viene espressa Eccoci Nico Ben pura l'attimo No, ce l'ho dicendo Questa battuta eh Certo, certo, certo E' Natalizia almeno Ci mancherebbe Poi in campo ci andiamo tutti noi Anche oggi abbiamo fatto una grossa prova di squadra Tutto il secondo tempo Che c'era un attimino da soffrire Magari abbiamo sofferto Abbiamo chiuso le loro ripartenze Abbiamo creato dei contropiedi Dove potevamo chiudere ancora di più la gala Non abbiamo preso gol Non abbiamo preso gol Non abbiamo preso gol Non abbiamo preso gol E quindi niente Nico Volevo chiudere bene Questo giro è andata E portare a casa i tre punti E portare a casa i tre punti Come dice il Grinch Justamente Certo E quindi L'importante era solo quello oggi E sarebbe fatta anche Facendo delle buone cose Prima Una domanda prima capitano Rientravi dopo qualche panchina Insomma ci tenevi a dare tutto come sempre Sì sì Star fuori non è mai bello Ma La squadra È squadra Dei venti Più I tifosi Più tutti E quindi l'importante È solo il gruppo Certo che ve lo voglia E avrei giocato anche Anche in porta Quindi sono contentissimo Brogno Girare a Finire il girone d'andata Con nove gol E se lo sarebbe aspettato No 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 Tanta roba dice Armando Sì sì Perché gira Perché gira qua Qui c'è lì Qui c'è lì Che sta girando qua il tono Qui c'è lì Qui c'è lì No comunque È bellissimo Vivo questo momento Con serenità Con entusiasmo Poi nel calcio Ci sono questi periodi Dove Dove La mezza palla Ti esce sempre Dove ci sei te Quindi sfruttiamo questo momento Andiamo avanti Poi Vediamo a fine anno Cosa succede dai Un ringraziamento Chiudiamo con un ringraziamento Anche ai tifosi Che c'erano Sempre bello Ci sono sempre A Bologna Quindi È una spinta in più Un aiuto in più Per tutti noi Speriamo che ci siano sempre di più In casa Spero che ci siano Nuove forze Che diano una mano a questi ragazzi Che ci seguono Fanno chilometri Poi è bello anche a fine partita Esultare con loro Come domenica al bar Finita la partita Bola Reggiana Con loro sempre Fare due cori è bellissimo Quindi Spero che aumentino sempre di più Grazie Grazie Ricco